La gran gala del calcio di Lario Sport siamo con una rappresentanza dell'Ardita che al momento è in testa dopo il girone d'andata nel girone di terza GA e abbiamo con noi Fabio Pina, il bomber abbiamo il presidente Giuseppe Speriafico e poi abbiamo il mister Antonio Campeglia partirei col presidente a cui chiedo se questo piazzamento era atteso era negli obiettivi o nei programmi oppure è una bella sorpresa No, siamo partiti con i fari spenti pur sapendo che in estate avevamo fatto una rosa di qualità adesso siamo primi e quindi speriamo di accendere i fari e andare avanti e invece al mister voglio chiedere qual è allora il segreto di questa squadra che ha totalizzato ben 17 punti in più rispetto al girone d'andata dell'anno scorso c'è un segreto mister? No, nessun segreto siamo partiti tranquilli abbiamo rifatto un po' tutta la squadra metà sono rimasti e metà li abbiamo cambiati e siamo partiti senza tante pretese e adesso chiaramente siamo davanti e faremo il giusto per vincere quindi è realistico pensare di potercela fare siete convinti? io sono convinto però è ancora molto lunga a partire da domenica sarà molto difficile vediamo se anche i ragazzi lo sono potete vincere veramente questo campionato e tu sei già arrivato in doppia cifra qual è il tuo obiettivo personale e cosa puoi dare a questa squadra? il personale non è importante è importante vincere io quest'anno sono occupato perché volevo vincere e per adesso stiamo andando bene ma io è ancora lunga certo, è lunga e facciamolo in bocca al lupo allora all'ardita grazie grazie, grazie grazie